Il 9 novembre 1989, il Muro di Berlino cadde, segnando la fine del comunismo e della contrapposizione tra i blocchi USA e URSS. Questo evento storico fu un momento epocale, piché l'ultimo baluardo della Guerra Fredda venne abbattuto. Il Muro di Berlino era stato una barriera insormontabile che aveva tenuto in ostaggio una generazione di berlinesi. La sua caduta fu innescata da un malinteso e rappresentò il preludio alla riunificazione della Germania e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Per comprendere il contesto, dobbiamo tornare agli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L'Europa era stata divisa in due blocchi, uno sotto l'influenza sovietica e comunista ad est, e l'altro sotto l'influenza degli Stati Uniti ad ovest. Nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania sconfitta fu divisa in quattro zone di occupazione, assegnate rispettivamente agli Stati Uniti, alla Francia, alla Gran Bretagna e all'Unione Sovietica. Berlino, situata nel cuore della Germania, fu anch'essa divisa in due parti, Berlino-Ovest sotto il controllo occidentale, e Berlino-Est sotto il controllo orientale. Il Muro di Berlino fu costruito dai sovietici tra il 1961 e il 1989 per isolare la zona ovest dalla zona est, impedendo ai cittadini della Repubblica Democratica tedesca Germania-Est di accedere alla Repubblica federale, tedesca Germania-Ovest. Migliaia di persone tentarono di oltrepassare il Muro di Berlino nei modi più incredibili, spesso mettendo a rischio la propria vita. Tuttavia, il 9 novembre 1989, la situazione cambiò radicalmente. Inizialmente, un funzionario del governo della Germania-Est annunciò erroneamente che i cittadini avrebbero potuto attraversare il confine. Questo malinteso portò a una folla di berlinesi che si radunarono al Muro, e nel tardo pomeriggio di quel giorno, iniziarono a batterlo con martelli e picconi. Il mondo intero assistette alla scena mentre migliaia di persone si arrampicavano sul Muro, abbracciandosi e festeggiando la fine della divisione di una città e di un mondo spaccato a metà in sintesi. La caduta del Muro di Berlino rappresentò un momento di grande significato storico, segnando la fine di un'era e aprendo la strada alla riunificazione della Germania e a un nuovo capitolo nella storia mondiale. Il Muro di Berlino rappresentava una netta divisione tra due mondi contrastanti, lato occidentale Berlino-Ovest. Questa parte della città era sotto il controllo delle forze alleate occidentali principalmente Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Berlino-Ovest era una democrazia capitalista, con un'economia di mercato e un sistema politico pluralista. La parte occidentale era caratterizzata da prosperità economica, libertà di movimento e accesso a beni di consumo. Lato orientale Berlino-Est questa parte della città era, sotto il controllo dell'Unione Sovietica e della Repubblica Democratica Tedesca Germania Est-Berlino-Est era un regime socialista, con un'economia pianificata e un governo centralizzato. La parte orientale era caratterizzata da limitazioni alla libertà di movimento, scarsità di beni di consumo e sorveglianza costante. In breve, il Muro di Berlino rappresentava la divisione tra due ideologie politiche e sistemi economici opposti, il capitalismo occidentale e il socialismo orientale. La sua caduta nel 1989 segnò la fine di questa divisione e aprì la strada alla riunificazione della Germania.